Dopo diversi mesi di test su un gioco di particolare difficoltà come Halo Infinite ci sentiamo finalmente pronti a condividere un profilo più adatto. Con il suo sistema di mira unico e genuino avere un'impostazione semilineare ci permette di sfruttare nel miglior modo le accelerazioni imposte dal gioco. Impostiamo un 40% 0,33 nel passaggio 1 e nel 2 invece un 80% 0,66. Veloci, forti e scattanti. La regola chiave di un buon Spartan sta proprio nel riuscire a librarsi tra un proiettile e l'altro senza morire. Nell'analogico sinistro infatti diamo priorità ai movimenti più veloci dando un valore molto basso del 20% 0,33 nel passaggio 1. Invece sarà più alto del 66% 0,66 nel passaggio 2 così da poterci muovere non appena sfioriamo la levetta.